Alvia la campagna d'intesa tra Coldiretti e Avis Puglia, per prevenire le malattie ma anche per garantire gesti di solidarietà, come la donazione del sangue che in Puglia conta 55.000 cittadini, una platea che va educata ad alimentarsi al meglio. Il programma prevede l'educazione alla salute, promuovendo anche nelle scuole un'adeguata consapevolezza dell'importanza del dono del sangue e del corretto stile di vita. Sono infatti quasi 80.000 le donazioni di sangue in Puglia che vanno implementate, sostenendo i bisogni di salute dei cittadini, favorendo in ambito regionale il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo. L'intesa prevede attività di formazione sul buon cibo e sui temi della sana e corretta alimentazione, al fine di prevenire patologie metaboliche e degenerative, disseminando la cultura della prevenzione sanitaria e del corretto stile di vita come contrasto a fenomeni derivati, quali dipendenza, comportamenti a rischio e bullismo. Saranno dunque favoriti attraverso i giovani e le donne di Coldiretti Puglia e la consulta Giovani progetti ed iniziative di ambito rispiro, per una formazione puntuale e cosciente sulle tematiche economico-sociali regionali, nazionali e internazionali, nel campo sociosanitario e del volontariato. Grazie. Grazie.